Cari quaddisti buongiorno ed eccoci ecco il vostro ferolone armato di Segway 9boot 1 che sta raggiungendo tramite il viale Tiziano Ponte Mivio e da Ponte Mivio la location dell'albergo dove troverà la Giaggi che si è fatta tutto il giro di Roma con il Segway Mini la comodosa mentre noi assaltiamo con il Segway 1 guardate qua che bellino assaltiamo il nostro Ponte Mivio e andiamo Roma è una città abbastanza particolare qua passano via tutti rosso verde cioè allucinante comunque veramente i semafori non è che siano così cioè non lo so non arriva mai verde quando arriva dura pochi secondi questi passano tutti con rosso non si capisce ma pare da adesso un pirla cioè pure il verde non è arrivato gli altri sono passati ma qui il semaforo è ancora rosso a questo punto mi chiedo anch'io cosa devo fare cazzo passano tutti con rosso vabbè io ci provo verde da non credere che grande azione guardano qua il semaforo verde poi mi guardano male a Roma eh te aspetti il verde cazzo ti guardano tutti e mi direi va che milanese perla che aspetta il verde cazzo oltre a me gli sono e signori questo è il Ponte Emilio il Ponte Cellino dei Lucchetti ieri vi abbiamo fatto la ripresa della Giangi qui veramente vabbè questo lastricato ci avrà mille anni questo è il Ponte Emilio 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 ci sono tutti gli aperitivi dove ieri ci siamo fermati però adesso proviamo a raggiungere le Giangi allora che bello ragazzi ovviamente questo è il Ponte Emilio il Ponte Emilio e noi stiamo marciando anche su questo terreno vi assicuro cioè è veramente sconnesso e qui One lo sopporta bene le caratteristiche tecniche del One perché vi parlo sempre del Mini che ha sinceramente incredibilmente conquistato il mio cuore però a me piacciono sempre questi i monoruota cioè il monoruota centrale la caratteristica fondamentale del One è il fatto di avere una ruota da 16 pollici che ti consente una buona stabilità e di sorpassare ostacoli anche di una certa altezza appunto grazie alla sua ruota da 16 pollici qua siamo sul lungo tevere non so se esterno o interno comunque è veramente impegnativo il punto di vista delle sconnessioni e delle buche comunque siamo qua si siamo fermati un'altra volta al giallo cazzo questi già passano col rosso figurarsi vedere a me che mi fermo col giallo e il giallo dura una vita quindi non sai neanche tu che cazzo combinare comunque noi imperterreti e sentitore vi facciamo vedere quella che è Roma vabbè più o meno e questa è la zona del ponte Emilio dove ci sono comunque dei bei ristorantini adesso in due chilometri praticamente faremo tuttavia mi sembra che si chiami il ponte Emilio e arriveremo arriveremo fino in piazza dei giochi delfici dove si trova il nostro hotel notate il traffico romano fate conto che sono le 18.40 di sabato è comunque sempre un po' caotico la situazione marciapiedi romana è abbastanza pesantiella ma se dobbiamo essere sinceri conviene comunque valutare che noi non conosciamo minimamente alcuna pista ciclabile o alcuna situazione di Roma per cui è per forza di cose che ci risulta un po' ostica probabilmente perché noi siamo proprio i primi a non conoscere le strade che potremmo fare questi sono gli aperitivi il bar degli aperitivi di ieri spettacolare adesso però un po' tardino e quindi noi è un migliaietto di euro un migliaietto di euro un migliaio ecco il romano che come gli dice un migliaietto di euro ha un trauma pesante gli è venuta una botta allora lo scooter l'aveva pagato 400 mi dice un migliaietto di crei un trauma psicotipico bucone abbiamo preso meno male che avevamo 16 pollici ecco signori sempre per la nostra viettina guarda che spettacolare chiesa qua a Roma è tutto grande a parte taluni particolari che sarebbero abbastanza interessanti nei bipedi ma qui a Roma è tutto grande è incredibile c'è qualsiasi cosa i monumenti sono grandissimi la città è spettacolare forse magari ecco non brilla certo inviabilità però diciamo che la nostra permanenza nella capitale romana è sicuramente enormemente piacevole e poi ci guardano tutti come strano un altro veramente mi sembra cazzo nel 2016 qua vabbè signori da Roma dal Fero con il vostro Seagway One spettacolare prodottino che se ne va in giro per Roma va che salitona che questo è un 20% e il Seagway One va su senza problemi il Fero qua di si.it vi salutano e vi confermano che anche Roma non dico che sia stata conquistata ma certo abbiamo lasciato la nostra impronta di Milanese in prova test Seagway One e va come vado va come vado ciao ragazzuoli dal Fero un salutone ciao